Di incoraggiamento e di fiducia, perché diventando uomo Dio in Gesù Cristo ha voluto accettare tutti i limiti dell'umanità, tutte le fragilità, anche gli errori e i peccati, anche questo solito di buco nero nel cuore dell'uomo che a volte è la menzogna, la frode, la violenza. Dio l'ha accettato, la morte, Dio l'ha accettato diventando bambino, diventando uomo. Se l'ha accettato e non è avuto paura, si è voluto caricarsi dell'uomo per portarlo alle altezze della divinità, in paradiso, allora dobbiamo avere fiducia in noi stessi. Dobbiamo guardare a Cristo, guardare a questo bambino e sorridere, anche se siamo, oggi non sappiamo cosa mangeremo, non abbiamo il riscaldamento, dobbiamo avere fiducia, perché lui è accanto a noi, ci infonde pace e serenità e ci dice su alzati, corri, perché c'è sempre una possibilità per te, c'è sempre una porta aperta per te, c'è sempre una svolta perché tu possa sorridere. Per cui ciò che conta è avere riconosciuta la dignità, la dignità si riconosce nel momento in cui qualcuno ci guarda, ci chiama per nome, ci sorride e ci dice vai avanti. E io che sono il pastore per ora di questa città, faccio la funzione quantomeno di pastore, vorrei che dire a tutti, credenti, non credenti, poveri o ricchi, qualcuno dal cielo vi sorride, Gesù Cristo vi sorride e io ve lo voglio dire, io sono lo strumento per dirvelo, ma davvero Gesù vi sorride, abbiate fiducia, andiamo avanti.